Scoprire come sono nate le Dolomiti, i Monti Pallidi, vuol dire partire per un viaggio nel tempo profondo, il tempo della geologia, che si misura in milioni di anni. Dobbiamo tornare indietro di 270 milioni di anni per vedere impilarsi i primi strati di rocce sedimentarie che costituiscono l'ossatura delle montagne. Poi, 30 milioni di anni fa circa, Africa ed Europa si fanno così vicine che nella zona di contatto gli strati di roccia cominciano a sollevarsi. Sono le Alpi. Infine, negli ultimi due milioni e mezzo di anni, ghiacciai, gravità, fiumi hanno lasciato i loro segni sul paesaggio montano che vediamo oggi. Domani le montagne continueranno a cambiare, per altri milioni di anni. Grazie! Grazie!